E' possibile sbloccare il nuovo TV Man sul gioco ufficiale di Scriviti Toilet? No, vabbè, non sapevo nemmeno si stesse! Ragazzi, è uscito finalmente il gioco ufficiale dello Scriviti Toilet! Quello vero, quello che si è visto in uno shorts! Ed oggi lo proveremo! E cercheremo di sbloccare il TV Man! Il nuovo personaggio che praticamente flasha gli Scriviti Toilet E gli Scriviti Toilet fanno... Questo gioco è proprio strano, ragazzi! Mondo strano, da ora disponibile su Amazon Vi ordinate dentro il 4 luglio e riceverete i sticker speciali! E sì, è ispirato ai Rainbow Friends! Quindi ogni like e ogni iscrizione a questo video saranno Scriviti Toilet e meno sulla faccia della terra! Iniziamo! Ah, da quanto non prendevo il tablet per giocare a questi giochi! Influencer App! Aiuto la polizia! Personalizza la tua esperienza! Assolutamente no, grazie! Ah! Quindi noi iniziamo da piccola telecamera! Ok, camerino! Che è praticamente il mio figlio! Eccolo qua, camerino! Me lo metto qua! Perciò dobbiamo sconfiggere i Scriviti Toilet! Capitan cameraman! Bel lavoro! Noi abbiamo quasi finito qui! Abbiamo finito di sturare il gabinetto! Cameraman, non posso aspettare per vedere quante Scriviti Toilet ho sturato! Prima di lottare contro gli Scriviti Chess! Vediamo lo shop! Ah, possiamo comprare diversi cameraman! Più istereo! Ma ci sarà il nostro personaggio segreto TV Man! Quello dell'episodio numero 40! Spero che sì! Posso pure comprarmi le gunne! In questo caso ho una K48! Perché mi piace di più il 48 che quella del 47? Quindi selezioniamo e che dite? Iniziamo col primo livello! E arriviamo al 10 sbloccando TV Man! Vai! Devo stare attento! Ok! Devo stare attento! Colpisci! Colpisci! Ok! L'ho sturato! Uno ho sturato! Stura l'altro! Aiuto! Ragazzi sono fortissimo questi Scriviti Chess! Ma io sono più forte di loro! Ragazzi non ci sto capendo niente! Ce la devo fare! Forza cameraman! No ragazzi ci sono al limite del mondo! Me ne devo scappare! Una batteria! Una batteria! Non posso prenderla! Ok! Ondata 1! Ce l'abbiamo fatta! Le abbiamo sturati proprio tutti! Aiuto! L'ho dato 2! Scusate ho bisogno di questo! Aiuto! No TV Man! No scusa! No piccolo camerino! Da che ce la fai? Oh no! Aiuto! Quanti sono? Sono troppi! Non ho energie! Devo resistere alla terza ondata! Questo è solo il livello 1! Immaginate il livello dove ci sono i boss! Perché sì! Ci sono anche i boss! Neanche ce la posso fare! Adesso ho capito! Come si lotta contro questi Scriviti Chess! Aiuto! Ok ricarica! Vieno più andiamo indietro! Questa è la mia città! Brutti pezzi di Chess! Camerino! Fagli vedere come si cambiano i vestiti! Ok! Non ce la faremo mai così! Scriviti! 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 Aiuto! Aiuto! Sono troppi! Sono troppi! Spara in pace! Sono scherzato! Ma c'è solo l'aiuto! Mi vogliono scaricare! Mi vogliono scaricare proprio malissimo! Scappa Camerino! Siamo sopravvissuti anche a questa ondata! No! Sta arrivando il boss! Scriviti! Dup! 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 Yes! Yes! Scriviti! W! Nii! Nii! Oh mio Dio! Tre teste! Ma dove le ha tre teste? Avrà un trattamento speciale! Sì! Lo studiamo col Via Cal! Aiuto! Via Cal! Aiuto! 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 Ho bisogno dell'energia! Ho bisogno dell'energia! Ok! Sì! Primo livello completato! Ok! Vediamo se c'è la possibilità di upgradeare qualcosa e prenderci magari, non lo so, una telecamera più forte! Ehm... Ancora sono... Dove ho creare la telecamera di livello 2! E l'ultimo costa 800! Va bene! Allora per ora aumentiamo vita! Oppure... No! Coins! Che è quello che ci serve! Le monete! Ci saranno anche altre armi! Questa è solo la K47! Quindi vabbè! Ce ne saranno altre! Speriamo! Capitan cameraman! Che cosa mi dice adesso? I gabinetti! Saranno estetti! Ragazzi! Che cadetà sto iscriviti! Per estinguere gli iscriviti i toilet! Ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! Ok! Questa andata è facilissima! Io ho paura dei boss e più di altro! Ah! Aiuto! Mi sta facendo lì a gap! Aiuto! Mi sta facendo proprio! E' bruttissimo! Non ricaricare! Aiuto! Come faccio? Aia! No! Cavolo! Che potenti! Pezzi di jazz! Vi faccio vedere di che... Di che sono fatto? Vi faccio vedere di che passo sono fatto! Non cari... Ma ragazzi! Ma quelli tirano... Ma cos'è che tirano esattamente? Ok! Se io mi metto permole faccio così in modo facile... Quanto è soddisfacente! Vai 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 vai! Fuori uno! Vai 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 vai! Fuori due! Vai 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 vai! Fuori tre! Si diventa più forte che mo' c'è il boss! Dai! Non possiamo essere questi scarsi contro il boss! L'altro l'abbiamo fatto peggio! Aiuto! Aiuto! Mi vogliono mangiare! Lo sapevo io che non dovevo andare dal cinese a mangiare non lo so i... i sushi! Non lo sapevo io! Anche se a me piace troppo la cucina finese, giapponese, mi piace un sacco! No! Sta arrivando ragazzi! Il boss sta arrivando! Ondata numero 4! La penultima ondata! Boss! Sta arrivando! Aiuto! No! Io ora ho visto tutto! Oh no! Cosa faremo? Mi spavento! No io non mi spavento! Noi siamo più forti ragazzi! Guardate come siamo più forti! Ah! Aiuto! C'è la G-Laser! Distruggilo! 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 Sì! Bianche la G-Laser! Fermo! Lo camerino! Cazzi! Allora mi sono fatto 3152 monete! Così possiamo sbloccare qualcos'altro! Allora! Con 3152 monete possiamo arrivare a sbloccare pure le casse! Ma io prima direi di sbloccare... Allora sblocchiamo il cameraman normale! E sblocchiamo le casse! Serio! Sì! Però io voglio il TV Man! Per forza! Cioè l'ultimo nuovo personaggio! Ah! Possiamo pure sbloccare le nuove mappe! Questa è la script di Disney City! Allora! Seleziono la Warehouse! Che bello però! E poi altre... Oh! Ce ne ho altre! La Machine Gun! E poi questa machine... Il pompa! Oh yeah! Vabbè! Vabbè aumentiamo tutto ragazzi! Vita! Tutto aumentiamo! Vai! Vediamo che quanto danno facciamo! Capitan cameraman! È il momento di killare e sturare tutti i lavandini! Non i lavandini! Iscriviti i toilet! Pronti? Dove siete? Eccoli in questa nuova mappa! Ragazzi! Io sono il salvatore dell'università! No! Vabbè! Non è il salvatore dell'università! Io sono il salvatore degli iscriviti i toilet! Ce la sto cercando di fare! Vi metto un po' di musica! Ho visto lei che bacia all'unico! Che bacia al me! Che bacia al me! Un'erba! Sìììì! Ora ti... Ora hai paura di me! Ora hai paura! Ha! Ha! Ho sempre desiderato Tirare un po' di sciacquoni Comunque questa arma è troppo forte Volete quello che vuole ma la machine gun Il pompa Prendiamolo 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 Non ti alzardare Usalo Usalo Iuto non fa tanto ragazzi Il pompa non fa tanto Il pompa del loro non fa tanto Non ce l'abbiamo fatta No 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 Mi hanno cerchato Sono troppi Io non te mordo Devo sbloccare il team man Perciò sconfiggiamo l'ultimo boss di questo video Stavolta potentissimo Le casse non mi fanno paura Non mi mangeranno le chiappe Le killerò tutte Anche se sono gialle Anche se aiuto Ok mi sto fermo così riesco a colpirle tutte Bravo così Grandissime casse Dai ragazzi le ho scassati Gli ho rotto proprio le tazze Ok Fine prima Seconda Non mi devo bloccare aiuto Non pensavo fosse così difficile Cambia musica Metti Gigi d'Alessio Ok Ho messo Gigi d'Alessio Vedi che funziona No 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 niente pompa Niente pompa Questa è più potente Questa è più potente Ragazzi la machine gun È tipo la più forte di tutti Bravo così vai così No devo rimanere con la machine gun Non mi interessa Non devo prendere altre Cioè tutti sto distruggendo Yes È il momento Del boss Ma schifiti Ma quello è una mitragliatrice Io pure C'ho la mitragliatrice Aiuto Si Vediamo se ho sbloccato TV Man Ciao Non ho sbloccato TV Man Ma come? Ma che patacca è questa? Ma non è giusto Il video del giorno è anche qui Spero tantissimo che vi sia piaciuto Qua la vostra Londresist è tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Eeeee Ciao Grazie per la visione!